Domenica dalle 18 allo Stadio Olimpico si gioca il derby della Capitale, raggiungere l'area del Foritalico senza utilizzare l'auto è possibile con i diversi collegamenti a disposizione. In particolare c'è il tram 2, parte da Piazzale Flaminio, dove c'è la corrispondenza con la stazione Flaminio della Metro A e arriva a Piazza Mancini. Ci sono poi altri 16 collegamenti di bus in arrivo dai diversi quadranti cittadini, ne segnaliamo qualcuno, in particolare tra gli altri il 31 che parte dal Capolinea Laurentina della Metro B e arriva a Piazzale Clorio. Il 32 collegamento tra la stazione ferroviaria di Saxarubra, Ponte Milvio, la Metro A a Antaviano e Piazza Risorgimento e poi le linee 70 e 910 che raggiungono l'area dell'Olimpico partendo dalla stazione Termini. E poi ancora c'è l'89 che arriva a Piazzale Clorio partendo dalla stazione Sant'Agnese a Libariano della Metro B1 e i bus di 280 e 446 che dai Capolinea rispettivamente di Stazione Ostienze e di Metro Cornelia arrivano a Piazza Mancini. Orari, percorsi e tutte le linee sono su romamobilita.it.